Buon pomeriggio e benvenuti a Prospettive da parte di Matteo Ciofi. Iniziamo come di consueto dall'udienza generale di ieri, nella quale il Papa è tornato a ripercorrere le tappe del suo viaggio in Africa appena concluso. La riflessione del Santo Padre si è concentrata soprattutto sulla differenza fra ricchezza e miseria, così come sulla convivenza fra questi due opposti, un legame che il viaggio in Africa ha ulteriormente evidenziato agli occhi del Papa, che ha detto «Questo è uno scandalo, non solo in Africa, ma anche qui, dappertutto. La convivenza tra ricchezza e miseria è uno scandalo, è una vergogna per l'umanità». Il Pontefice ha poi spostato l'obiettivo sulla missionarietà e a proposito della centrafica ha ricordato di aver conosciuto a Banquì una di quei missionari coraggiosi, un'anziana suora italiana di 81 anni. Ascoltiamo ora le parole del Santo Padre riguardo questo tema. È il momento di pensare e chiedere al Signore che ti faccia sentire la sua volontà, ma non escludere, per favore, questa possibilità di diventare missionario per portare l'amore, l'umanità, la fede in altri paesi, non per fare proselitismo, no. Quello fanno quelli che cercano un'altra cosa. La fede si predica prima con la testimonianza e poi con la parola, lentamente. Questa mattina nella Sala Clementina il Papa ha incontrato i partecipanti alla plenaria della Congregazione dell'Evangelizzazione dei Popoli. Il Pontefice ha detto che in un mondo secolarizzato, accogliente verso i valori evangelici di amore e pace, ma che non ritiene Gesù il Figlio di Dio, la Chiesa deve uscire ad annunciare il Vangelo a tutti. Non è la Chiesa che fa la missione, ha spiegato il Santo Padre, ma è la missione che fa la Chiesa, rinnovandola e rinvigorendone fede, entusiasmo, motivazioni e identità cristiana. La missione dunque trasforma la Chiesa al suo interno e in tal modo lo Spirito Santo trasformerà i fedeli abitudinari in discepoli, i discepoli disaffezionati, i missionari, tirandoli fuori dalle paure e dalla chiusura e proiettandoli in ogni direzione sino ai confini del mondo. Le parole di Papa Francesco. Vi ringrazio per il vostro lavoro di animazione e cooperazione missionaria, con cui ricordate a tutte le Chiese che, se costrete nei propri orizzonti, corrono il pericolo di atrofissarsi e spegnersi. La Chiesa vive e cresce in uscita, prendendo l'iniziativa e facendosi prossimo. Perciò voi incoraggiate le comunità ad essere generose anche nei momenti di crisi vocazionale. Continuiamo a parlare dell'anno santo della misericordia con le parole del Cardinal Tagle, che oggi, a margine dell'Assemblea plenaria della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, ha parlato all'Agenzia Fides. L'Arcivescovo di Manila ha ribadito come avere misericordia nell'anno santo significhi per ogni uomo aprire gli occhi e le orecchie per vedere e ascoltare i poveri, ma non è abbastanza, bisogna agire per queste persone e cambiare il proprio stile di vita. Parlando invece della situazione nelle Filippine, contesto contrassegnato dalla ricchezza nazionale nelle mani di poche famiglie, Tagle ha detto che misericordia significa rivedere la propria vita nell'ottica della condivisione di una equa distribuzione delle ricchezze. Proprio con questo spirito il Cardinale ha dichiarato che il rito di apertura della Porta Santa, che si terrà il 9 dicembre a Manila, avrà una dimensione e una presenza speciale, quella dei poveri che aiuteranno Tagle stesso a spingere i battenti della porta, in un gesto che intende simboleggiare l'attenzione preferenziale agli emarginati e agli indigenti nell'anno santo. Prospettive termina qui, è tutto anche per oggi, grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento con i programmi di Sale e Luce TV ed appuntamento a martedì prossimo.